Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti questa sera a un interessantissimo dibattito che abbiamo organizzato nei nostri studi grazie all'aiuto e alla presenza di Confesercenti Pesaro Urbino. Alla mia destra il direttore Alessandro Ligurgo. Ciao, buonasera, buonasera, buonasera agli spettatori. Grazie Alessandro. Alla mia sinistra invece troviamo Davide Ipaso che è il responsabile sindacale di Confesercenti. Grazie Antonio, grazie per la serata, grazie a tutti gli spettatori. E grazie soprattutto a voi e grazie a Francesco Ceccarelli che è il presidente dell'Assotel Gabice Mare, questa entità di cui parleremo abbastanza questa sera. Grazie Antonio e buonasera a tutti, grazie. Quindi ovviamente avete già capito che l'argomento centrale sarà Gabice, la grande attrattiva turistica di Gabice Mare, Gabice Monte, questa realtà fantastica situata, si può dire, all'inizio della regione Marche guardando verso nord ed è la porta di accesso al nostro turismo, al turismo che da questo 2023 chiederà tantissimo per un rilancio. Alessandro, quindi abbiamo delle importanti novità da presentare, dall'ultima volta che ci siamo visti questi appuntamenti così cadenzati effettivamente ci danno modo di fare il punto della situazione su tutto quello che Confesercenti fa. Sì assolutamente, ogni volta poi che siamo ospiti, tuoi ospiti in trasmissione ci diamo sempre un appuntamento e diciamo guarda che ci saranno delle novità breve, poi ci rivedremo e le racconteremo. La novità di stasera è effettivamente una di quelle importanti, belle cariche di significati anche. Pochi giorni fa, un mesetto fa, per esattezza il 16 di marzo abbiamo costituito una nuova associazione, figlia della nostra mamma Confesercenti, che è l'assotel di Gabice Mare, di Gabice anzi. Ci siamo sempre detti, Confesercenti crede tanto nel turismo, crede tanto nelle novità, nelle innovazioni, deve stare al passo con i tempi, deve essere sempre presente magari un pochino, un passettino avanti a quello che dovrà succedere. Stiamo facendo il nostro meglio e la costituzione di questo bellissimo sindacato che è già nato importantissimo, non solo per noi ma anche nella realtà di Gabice Mare, grazie devo dire alle buone pratiche di Davide Ipaso che è da tempo con noi e si sta rivelando un valore aggiunto per la nostra associazione in effetti. Insieme a Davide ho conosciuto il nostro Francesco che è diventato un punto di riferimento anche per noi e spero anche noi per lui e per tutta l'associazione e abbiamo questa bellissima novità che punta un po' all'innovazione ma anche al rilancio e alla tutela in qualche modo del turismo di Gabice ma anche del Parco San Bartolo che insiste anche su Gabice e soprattutto anche in ottica poi 2024 e a seguire. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci tutti i giorni non fa altro che dirci che già da oggi ma poi gli anni a venire oltre al 2024 dovremmo essere ricettivi, capaci di calamitare persone, turismo eccetera e ha ragione a Sotel di Gabice mare è uno dei passi che ci permetterà poi di fare questo lavoro qua. Sono convinto, le strutture sono favolose ma poi non voglio rubare le parole a Francesco perché vorrei che la presentasse lui e quindi sì la novità grossa è veramente questa. Beh ha introdotto già due elementi interessantissimi, importanti, la proiezione futura al 2024 quindi all'anno in cui la provincia di Pesaro non solo la città sia la capitale della cultura ma anche poi gli anni successivi perché la grande scommessa è quella di mantenere ciò che sarà fatto nel 2024 e hai anche accennato al ruolo di Davide Ipaso che è in Confesercenti da qualche mese ed effettivamente in questo caso ha svolto una funzione importante anche per le sue conoscenze maturate nel tempo e soprattutto per questo valore aggiunto che già Alessandro Licurgo ha dato Davide. Sì, ringrazio il direttore e adesso gli dovrò dare 50 euro dopo perché mi ha incensato il problema, è stato molto facile, io e Francesco ci conosciamo da almeno 20 anni la cosa bella è che siamo due persone dirette, vere e concrete come diceva giustamente Francesco con le mani. Con il gesto. Sì, con i gesti. Credo che in un momento come questo sicuramente il trovare personaggi come Francesco, come la Federica Michelacci, come la Lisa Scola sono le persone che ci servono per creare e fare sistema, quel sistema che purtroppo a livello turistico nella nostra regione non viene fatto. Cosa vuol dire fare sistema? Inglobare tutto ciò che fa turismo, quindi dalla parte ricettiva al ristorativo, al bagnino e creare quel pacchetto necessario a un turista che viene e dice mi piace l'Italia e in quel momento lì vengo servito barba e capelli a 360 gradi. Questo per noi Gabice può svolgere questo ruolo. Io guardo, adesso è un periodo che vado a Gabice spesso, non è che Gabice non la conoscessi, però più la guardo più dico è una gemma all'interno della nostra regione. Ha delle potenzialità così enormi che mi chiedo come mai in tanti anni sia rimasta indietro rispetto agli altri. Che cosa vuol dire questo? Che non ha ancora preso consapevolezza di quanto può essere importante. La bravura di Francesco e degli altri membri del Consiglio, di tutti gli albergatori che dico che poi sono 41 su 80 unità ricettive di Gabice, quindi siamo diventati la partnership più importante, l'interlocutore forse più importante, visto che domani noi incontreremo il sindaco, gli vorremmo far capire che in questo momento si deve interlocuire anche con noi, cosa che purtroppo per anni la disgregazione di Gabice ha portato a leggemonia da parte di qualcuno e Gabice purtroppo si è bloccata. Si è un po' bloccata. Allora, il linguaggio del corpo che abbiamo visto di Francesco prima quando ha stretto i pugni che è stato sottolineato da Davide è proprio molto concreto. Sapete che il linguaggio analogico molto spesso conta molto più delle parole. Fra le altre cose, parlando prima con Francesco, abbiamo notato questo slang romagnolo, marchigiano e ci ha spiegato perché. Francesco, raccontaci un po' di te. Mio padre di Novilara e mia madre di Montegridolfo, quindi sono l'esatta sintesi di quello che è il vivere al confine tra due territori che poi sono un unico territorio. Purtroppo la storia ci ha insegnato i campanili, questo quell'altro. Oggi il mondo sta andando in una maniera diversa, quindi oggi fare rete, fare sistema sono quelle parole che le sentiamo continuamente, però bisogna anche, devono entrare proprio nella vita quotidiana delle persone. Quindi io mi sento cittadino di entrambe le parti, senza distinzione. E sicuramente questo è un aspetto virtuoso dell'essere marchigiani romagnoli in pochi metri perché si prende il meglio dell'una e dell'altra realtà. Lì c'è l'orografia di mezzo, sappiamo che c'è un fiume che divide le mille romagna dalle marche e che poi si traduce in un porto, però Francesco, effettivamente le potenzialità di Gabice sono enormi. Sono enormi dovute alla bellezza che è stata già sottolineata di questo capoluogo marchigiano e dalla possibilità di offrire un turismo davvero completo a 360 gradi e quindi tu come presidente di Assotel sicuramente questo compito lo vorrai portare e renderlo il più possibile evidente per chi visiterà Gabice. E avete cominciato già a fare diverse cose. Esatto. Faccio una piccola introduzione. Io sono purtroppo i problemi del turismo italiano adesso senza, cioè su Gabice ma la stessa cosa anche guardandola un pochino da più indietro, da più in alto, sono che noi italiani diamo troppo per scontato le cose belle che vediamo tutti i giorni e molto spesso non ci rendiamo conto che un affaccio sul mare, una respirata di brezza marina che per noi sono la normalità per tanta gente che vive in altre parti dell'Italia che non sono così fortunati, pagherebbero fior fior di quattrini per venire ogni tanto a fare un giro a respirare aria buona dalle nostre parti, non solo l'aria perché poi Gabice ma tutto il territorio della provincia di Pesaro Urbino è ricco di enogastronomia, cultura, di tutto. Quindi siamo completi dal punto di vista del prodotto turistico. Quello che oggi purtroppo manca o perlomeno stiamo lavorando per portarlo sempre più in evidenza è il fatto di saperlo, essere in grado di raccontarlo, essere in grado di portare a conoscenza le persone che girano il mondo, che magari se fai 100 km con la macchina magari scopri dei territori che non ti immagineresti mai di vederli. Uno tra tanti, faccio sempre l'esempio perché poi mi è capitato sulla pelle, qualche anno fa con un mio collega abbiamo preso delle bike a noleggio e abbiamo portato dei turisti, i nostri clienti dell'albergo a fare un giro nel parco San Bartolo siamo andati sul tetto del mondo e un turista al mio collega gli ha detto ma Andrea è 12 anni che vengo in albergo da te e te dopo 12 anni mi porti qui a vedere questo posto che è meraviglioso? Questo è un po' la sintesi di quello che dovremmo, dello step che dovremmo fare diciamo in termini di comunicazione, di racconto delle nostre terre. Certo, provate a immaginare, ha detto benissimo Francesco, il turista che abita a Tortona, a Voghera a Cinisello Balzo, a Düsseldorf, che comunque sia fa una vita molto bella, ricca, lavora, ha una famiglia però effettivamente si sveglia la mattina e magari se gli va bene vede un bel campo un bel campo di grano, le montagne. Ecco, immaginatevi invece la meraviglia che noi abbiamo a disposizione tutti i giorni sul nostro territorio, nella nostra vita, ma ci riferiamo a Pesaro, a Gabice a tutta quella che è la nostra realtà e la possibilità, per esempio, a Gabice, chi decide di fare una vacanza a Gabice, di affacciarsi, l'ha detto lui, sul San Bartolo, Gradara, tutte le meraviglie della Romagna che confinano con le Marche, le bellezze dell'interno della provincia di Pesaro, Urbino, Mondolfo, Fano, non si finisce più, è veramente incredibile. Una piccola parentesi, sono stato qualche mese fa a Pergola e, lo dico purtroppo, non ci ero mai andato, è l'estremo opposto, diciamo, della provincia. Ci sono tornato per quattro volte in un mese, tra dicembre e gennaio e ho scoperto, cioè, ci si dovrebbe stare una settimana per scoprirla tutta, tra le bellezze culturali delle chiese, chiesoline, cappelle che ci sono all'interno dei palazzi. Il museo. Il museo. Il museo del bronzo ormai è diventato una meta conosciuta, ma se si va sul viale principale di Pergola, ogni 20 metri c'è una chiesa e se entri ci sono dei dipinti del 500, del 600 di artisti, anche rinomati, che sono lì e aspettano solo di essere valorizzati e di essere mostrati al turista che magari è interessato a vedere quel genere di attività, quel genere di cose lì. Davide, ho visto che fremevi, volevi dire qualcosa. Qualche cose, una riferita a ciò che ha detto adesso Francesco. Il nostro concorrente principale da adesso in avanti dovrà essere la Toscana. Noi non abbiamo nulla da invidiare alla Toscana, soltanto che la Toscana è riuscita negli anni, avendo poco, cioè Toscana è tantissimo, ma avendo poco è riuscita a vendere benissimo quel poco. Brunello, cioè vai, sei in grado di creare, attirare il turista. Qui sai che hai detto una cosa che ti farà correre qualche rischio, dicendo che la Toscana ha poco. No, intendo, allora la Toscana per me è una delle regioni più belle d'Italia, ok, io sono innamoratissimo di Firenze e per me la Firenze è la città più bella d'Italia. Forse a livello mondiale. A livello mondiale. Io quando dico dell'Italia dico del mondo perché noi abbiamo il 60% delle bellezze storiche che le abbiamo nel nostro paese, quindi quando dico dell'Italia parlo del mondo. Però sono riusciti a vendere quello che avevano e l'hanno venduto bene e adesso è diventato un must. Noi abbiamo tante cose bellissime, come dice Francesco, non le conosciamo noi, ma le faide ataviche fra i vari comuni che cosa hanno portato? Ha portato a non poter riuscire a creare questa promozione. Abbiamo dei vini che sono eccezionali, finalmente questi vini hanno oltrapassato il tavolo, nel senso che si sono riusciti ad arrivare oltre e per me questo è già tantissimo. Ho festeggiato il compleanno, abbiamo bevuto vini marchigiani e ti assicuro, io quando vado in Piemonte, scusa, un'altra ragione che sul vino ci puoi insegnare tanto, io porto i vini marchigiani e i miei parenti mi dicono che questi sono vini ottimi. Quindi riusciamo. L'altra piccola cosa è, andando a Gabicce, tu arrivi fino a dove c'è il municipio e vedi una cittadina normale. Quando vai dall'altra parte della strada che iniziano tutti gli alberghi, io vedo una città stupenda. Mi piacerebbe quest'estate, ve l'ho detto alla mia amorosa, mi piacerebbe un weekend di prendermi una camera in un albergo di Gabicce e farmi una vacanza a Gabicce. Io abito a 10 km di distanza, però alzarmi la mattina, vedere quel mare, andare a prendere in una pasticceria del Viale dove ho trovato delle ottime paste. Per me è questo e ci vuole poco, ci vuole tanto. Il tetto del mondo, il San Bartolo, per 10 anni il San Bartolo non l'abbiamo mai. Basta dirti questo Davide, nelle Marche si fa tanto riferimento al Monte Conero che è meraviglioso, lo sappiamo con le sue splendide realtà, ma mi viene da dire, Gabicce non ha niente che invidiare, ma nulla, anzi, nulla che invidiare. Allora Francesco, queste cose che stiamo dicendo, Assotel di Gabicce, nuova associazione nata, l'abbiamo sentito circa da tre settimane, ha deciso di cominciare a metterla in pratica con un nuovo progetto, un progetto teso ad intercettare davvero qual è la richiesta del turista. Certo, in realtà non è da tre settimane, ma noi ci stiamo lavorando già da fine stagione scorsa con questa società, ci siamo sentiti, adesso abbiamo comunque iniziato questo rapporto. Abbiamo fatto un passo molto importante perché purtroppo si continuava a vivere di sensazioni, come è andata la stagione? Bene? Male? Ci basiamo sui dati Istat della regione che arrivano a marzo dell'anno dopo, dopo che la stagione è già finita, quindi praticamente inutili, solo da analizzare, da vedere se si può fare qualcosa, ma in realtà quello che a noi ci serve e che ci serviva era un qualcosa che ci aiutasse a indirizzare le nostre rotte anche durante la stagione estiva perché il lavoro dell'albergatore non è solo quello di accogliere i clienti, c'è un lavoro di strategia e di ricerca della clientela oggi di questi tempi che è forse l'80% del lavoro che dobbiamo fare tutti i giorni. Questa società che si chiama HBenchmark è una società che fa aggregazione di dati. Siamo riusciti, grazie ai miei colleghi soprattutto, a unire i dati di 23 strutture, più del 25% dei posti letto di Gabice Mare, quindi un quarto della nostra ricettività, unirli insieme, anonimizzati, ed avere tutta una serie di parametri per poter decidere cosa fare, cosa non fare, giorno dopo giorno, già da oggi fino alla fine della stagione estiva. Nello specifico, un esempio tra tanti, abbiamo notato che rispetto allo scorso anno, data di oggi, rispetto al 3 di aprile dello scorso anno, siamo più avanti con le prenotazioni, con l'occupazione delle camere di oltre il 14%, con una tariffa media sulla vendita della camera di circa 40 euro. Questi sono dati che sembrano inutili, in realtà per noi sono fondamentali per capire gli investimenti che dobbiamo fare, ma andando anche un pochino più indietro, capire quello che è il potenziale di una struttura ricettiva, ti dà anche il valore della struttura ricettiva e della struttura albergo e quindi dà la possibilità anche ad investitori che sono innamorati di Gabice, come lo è stato, come lo è, per esempio l'amministratore delegato di Gucci che ha acquisito la Gioconda a Gabice Monte, ma come tanti imprenditori che hanno le possibilità e magari si vorrebbero lanciare sul mercato del turismo, avere la possibilità di avere i numeri certi di quella che è la resa di un'attività è sicuramente fondamentale per lo sviluppo economico della nostra destinazione. Certo, si lavora sui numeri, è fondamentale sapere su cosa poter agire per fare business, perché comunque il turismo è un business importantissimo, sappiamo che valore ha a livello di prodotto interno all'ordine italiano. Francesco, per concludere, mi dicevi prima, prima di cominciare la nostra chiacchierata ripresa dalle telecamere, che Gabice ha un potenziale clamoroso nelle marche, cioè quel rapporto che mi ha colpito fra numero di abitanti e potenzialità turistiche. Facci capire bene questo concetto per capire di cosa stiamo parlando. Beh, considerate che Gabice è un paese che come abitanti fa circa 6.000 abitanti e basandoci sui dati della regione abbiamo circa un 8-9% del movimento turistico di tutta la regione e insieme a Senigallia e San Benedetto del Tronto siamo le tre destinazioni più leisure di mare, di vacanza, a giocarci i tre gradini del podio. Chiaramente noi, essendo un pochino più piccoli, avendo circa 80 strutture, siamo quelli che abbiamo i numeri, diciamo, relativi, i numeri più bassi, ma in termini di rapporto abitanti siamo la prima destinazione delle marche. Alessandro, un aspetto importante, poi andremo a chiudere con Davide, riguarda la difficoltà di trovare comunque personale per le strutture turistiche per tanti motivi. Confesercenti potrebbe essere un aiuto per chi cerca lavoro da una parte e per chi offre lavoro dall'altra parte. Assolutamente. È recentissima un'altra convenzione che abbiamo stipulato, anzi sono due in realtà, con dei partner che ricercano proprio personale, quindi agenzie interinali di massimo grado, possiamo anche dirle, l'ADECO che è a livello nazionale, che è alla convenzione con Confesercenti, a livello locale con l'Open Job Metis, quindi è un piccolo anticipazione su quello che poi sarà la comunicazione, appunto per la ricerca del personale. Per incrociare domande e offerte, ma non solo per gli albergatori, per l'assotel, ma un po' per tutto il mondo imprenditoriale, quindi i negozi. La famosa rete di cui parliamo sempre, gli hotel si appoggiano ai ristoranti, i ristoranti agli hotel, il cliente poi deve andare in teoria nel mondo ideale a fare la spesa nel negozietto vicino all'hotel e poi andare a mangiare la pizza nel bar di fianco. In tutto questo ci vuole personale che sia qualificato, che sia pronto, che abbia anche quello spirito, io dico anche imprenditoriale, perché ci vuole anche quello all'interno delle strutture. E ne conosco, conosco dipendenti, tranquilli, che hanno fatto del proprio posto di lavoro, ma anche della struttura in cui lavora, come se fosse la propria. Quindi entra, come Francesco è entrato qui in una famiglia e Davide per altri motivi in famiglia, quindi si lavora tutti per quello scopo, ci sono tantissimi dipendenti che hanno quella sensazione, quella propositività che è necessaria. In questo, queste due strutture ci aiutano tanto, e quindi chi si associa può usufruire dei servizi a prezzi veramente vantaggiosi, perché comunque giustamente si fanno pagare, ma è una cosa normale. Però l'efficoltà comunque c'è, se si gira per strada, vediamo tanti cartelli cercasi personale, la difficoltà c'è, purtroppo adesso anche dare colpe è difficile, Davide mi sta facendo così, però insomma ci sono mille, mille spiegazioni. Però è molto importante, ma ci siamo, gli imprenditori sono comunque molti in gamba, sanno anche trovare la persona giusta al momento giusto e poi partono sparati. Ed è importante sapere che esiste questa realtà che connette appunto, l'abbiamo detto, chi cerca e chi offre. Davide, quindi andrà in vacanza a Gabice, quindi ci auguriamo. Quindi, a parte tutto, ha detto un'altra cosa molto interessante Alessandro, questo discorso dell'appartenenza, del fatto che davvero si vede la passione, si vede la passione in chi lavora, in chi fa le cose. E noi lo possiamo dire, ti conosciamo da tanto tempo, vediamo la tua passione per quello che fai, e anche i risultati, perché poi fondamentalmente le cose si realizzano con i risultati ed è quello che è importante. I tuoi primi mesi di Confesercenti, è davvero questa sensazione di far parte di questa famiglia? Sicuramente l'amicizia che mi lega da tanto tempo a Dale è stato il fattore principale. Mi hanno accolto veramente come un fratello, un amico che entra dentro una struttura. Io nel mio lavoro ho sempre messo passione perché credo nelle cose che faccio. Quando io guardo gli occhi di Francesco, ci capiamo il volo, quando guardo quelli di Dale è lo stesso, cioè non c'è bisogno di tanto, perché vogliamo, abbiamo la voglia di crescere. Io ormai ho 50 anni, potrei dire, vabbè, fra un po' vado in pensione, sono tranquillo. No, perché il nostro paese, il nostro territorio è… No, Davide, in pensione andrai a Gabiccio quest'estate. Sicuramente, ma no, vorrei andare in albergo. Quello andrei in albergo. Quando te lo diciamo noi. Esatto, quando lo dico io soprattutto. La cosa bella è che le battute che fanno così, fanno capire che noi ridiamo, guardate, ridiamo molto durante la giornata, ma nel riso lavoriamo e lavoriamo sodo. Sedersi a un tavolo, loro ci hanno chiamato, non ci siamo seduti a un tavolo e questo mi potrà confermare… Ridendo. Ridendo. Noi abbiamo detto le cose che avevamo voglia di proporre e loro ci hanno guardato e hanno detto non c'è bisogno neanche di fare domande, perché ci avete già dato le risposte. Credo che siamo tutte e due, le due parti, nello stesso… E questo fa capire quello è lo spirito di Confesercenti, fa capire quello è lo spirito di Assotel, fa capire anche quello è lo spirito di noi, di Rossini TV, con cui davvero ci troviamo così bene insieme a voi nell'affrontare questi temi importanti di grande crescita per la nostra realtà territoriale. Grazie ad Alessandro Licurgo. Grazie a te, grazie a Rossini TV. Grazie Davide. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti, cioè ormai è giusto. In bocca al lupo Francesco, perché sarà davvero un'estate di immagino grande, grande lavoro e grandi speranze. Grazie mille, grazie mille a tutti e buona serata. Grazie a voi anche, ovviamente, per averci seguito fino a questo punto. Continuate la serata su Rossini TV, adesso ci sarà un interessante appuntamento sportivo. Buona serata a tutti.